Buona serata da Eleonore, questo è un video che faccio solo di corsa ma che tengo molto a precisare che tutto il materiale che vedete sul mio canale YouTube, sulle mie pagine Facebook, Instagram e sui miei account sono tutti coperti da copyright, voi non potete assolutamente copiare, se voi prendete notizie senza citarne la fonte se voi rubate foto, immagini, lavori miei, siete punibili dalla legge e inoltre verrete spubblicati su tutti i miei social media cosa che farò, come ho già fatto con tale Mary ritualista che non sa fare niente, non sa fare altro che rubare foto dei miei lavori, così come da tanti altri personaggi appena verrete scoperti verrete spubblicati ed è la cosa minore che io possa fare per voi quindi chiunque entra nel mio canale, stupidi e ignoranti, finti operatori eccetera dovete sapere che state giocando col fuoco, io prima o poi verrò a saperlo ciò che fate e oltre ad essere spubblicati potrei prendere provvedimenti anche a livello esoterico quindi il mio consiglio è di non copiare nulla io non vi insegnerò mai niente, la mia arte è segreta, di sicuro non viene pubblicata qui sopra e vi consiglio di stare molto attenti quando pensate a copiare o altre cose simili buona serata